ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo l'orologio che andremo a scrutare oggi è il mido big date tv mido multifort big date tv limited edition per gli amici mido tv un nome lungo da casata nobiliare che però non è del tutto fuori luogo infatti le radici di questo orologio affondano nel lontano 1973 infatti mido non è nuova a questi orologi con forma cassa a televisore nell'anno dal 73 al 2000 ne ha presentati ben quattro modelli tutti riconducibili a tale design ed è proprio nel 2023 in occasione del cinquantesimo anniversario che è stato presentato questo orologio o meglio non quello che vedete oggi ma il suo diretto predecessore in quella occasione la presentazione alla stampa mondiale avvenne in un luogo speciale dal forte significato storico ed identitario il museo rai della radio e televisione di torino ed è proprio per questo motivo che nasce la limited edition che presenta oggi per legare ancora di più la storia del big date tv alla storia della televisione esce in 999 esemplari e viene denominato s01 e 01 season one episode one proprio come se si trattasse del primo capitolo di una serie tv a tal proposito vale la pena ricordare che lo sto presentando in anteprima nazionale infatti proprio oggi esce la presentazione alla stampa mondiale e finisce l'embargo e quindi ringrazio mido italia che ha voluto gentilmente mettermelo a disposizione per un test savassandir che è disponibile anche dall'amico giacomo della gioielleria pasquali domenici di viareggio che è partner ufficiale del canale e è concessionario del marchio quindi sono già disponibili ho volentieri accettato di recensire questo orologio perché colpevolmente avevo lasciato indietro il modello precedente quello che ancora catalogo adesso la versione standard e soprattutto perché si tratta di un orologio con una forte identità una forte personalità che può essere adatta un certo tipo di collezionismo non è adatto a tutti forse perché è divisivo come orologio va da sé che questa recensione può essere considerata valida anche per i modelli che sono a catalogo standard che non sono limiti ed edition quelli con il quadrante grigio e altri colori quelli normali diciamo questo qua è un pochino più particolare essendo il 999 pezzi mondo è dedicato a chi vuole fare un collezionismo di nicchia detto questo diciamo bando ai discorsi e giriamo la camera e diamo un'occhiatella a questo mido multifort tv nome accorciato diamo uno sguardo ai risultati ottenuti dalle misurazioni sul campo diametro cassa 39.8 mm spessore 11.5 ingombro trasversale al polso 46.9 e interasseanza da 22 mm quando si ha a che fare con un orologio di forma risulta in proprio il voler indicare il diametro si tratta infatti della misura orizzontale rilevata escludendo ovviamente le spallette di protezione corona le proporzioni restituite dalla somma dei numeri ci indicano un orologio che al polso appare ben presente e che riesce tuttavia a mettere in mostra una certa eleganza avanguardista eleganza che trova la sua leva amplificatrice nell'esiguo spessore complessivo 11.5 mm sono veramente pochi e il risultato è stato ottenuto soprattutto grazie alla scelta di fissare il fondello utilizzando quattro viti singole piuttosto che avvitarlo integralmente la cassa questa soluzione consente di risparmiare qualcosa sullo spessore senza andare ad inficiare l'impermeabilità che qui è di ben 100 metri già da qualche tempo mido ha scelto di utilizzare questo sistema e lo vedremo replicato in futuro anche sui nuovi modelli in uscita ancor più impermeabili ed altrettanto sottili risulta ovvio che il dato sull'impermeabilità è un chiaro indicatore di quale possa essere il fine ultimo dell'utilizzatore ossia quello di indossarlo senza timore nella quotidianità esattamente come un qualsiasi orologio sportivo tutte peculiarità intrinseche di un segnatempo dedicato alla vita outdoor senza preclusioni di sorta occorre poi rilevare che nonostante tutto ciò lo stile risulta essere piuttosto raffinato e questo lo si deve ad alcune particolari scelte di design le spallette svolgono la loro umile funzione protettiva senza rinunciare ad essere le protagoniste dello stile la forma arcuata emula le linee tondeggianti della lunetta così come le protuberanze poste sulla verticale della stessa riprendono i segmenti centrali del bracciale un insieme di dettagli curvilinei adagiati su di una cassa quadrangolare dalle forme standard se infatti osserviamo l'orologio di lato notiamo che si tratta di un'architettura decisamente canonica fondello sottile carur filiforme e lunetta imperiosa se lo serviamo di tre quarti notiamo delle anse standard affusolate e corte se invece lo serviamo nella sua interezza notiamo che la somma dei dettagli ci restituisce un aspetto decisamente molto più interessante e soprattutto con finiture di primordine apprezzo particolarmente quella spazzolatura longitudinale che pervade l'intera superficie piatta della lunetta satinatura che è poi ripresa sul lato cassa e sul dorso anse andando a relegare le lucidature sulla superficie inclinata della lunetta e alla faccia esterna della corona va da sé che si tratta di un'alternanza piacevole che conferisce quel preziosismo in più che diventa poi apprezzabile nel momento in cui muovendo il polso partono quei garbati luccichi che catturano lo sguardo da notare che la smussatura lucida è presente anche sullo spigolo inferiore laddove il lato cassa si raccorda al fondello dettagli nascosti che addolciscono il tatto e che è bene evidenziare fino ad ora abbiamo constatato come la sportività possa essere considerata la cifra stilistica dell'orologio senza neppure parlare del quadrante elemento che chiaramente conferma quanto esposto prima e che rappresenta il vero e proprio tratto distintivo di questa limited edition più che sportivo lo definirei estroso la sagoma quadrangolare è da sempre indice di gusto classico ma in questo caso sull'altare del collezionismo si è optato per una rivisitazione alternativa il quadrante del big date tv diventa uno schermo vero e proprio con un sottile dipnotico gioco di forme geometriche tridimensionali e colorate una sapiente rielaborazione delle linee che comparivano sugli schermi televisivi dell'epoca una particolare reinterpretazione del famoso monoscopio senza però veramente mostrarne la forma definita in pratica si tratta di una rivisitazione finalizzata a celebrare il connubio tra orologio e mondo televisivo volendo invece astrarsi completamente la si potrebbe considerare come una forma d'arte moderna un insieme di forme e colori che danno vita ad un dial alquanto originale capisco bene che si tratta di una scelta stilistica tanto azzardata quanto divisiva ma va interpretata come una celebrazione unica finalizzata al collezionismo e dedicata ai collezionisti d'altronde il fatto che sia una limited edition palesa chiaramente questa finalità ciò che da subito apprezzato di questo quadrante è la finitura opaca unita alla tridimensionalità degli elementi la luce viene assorbita quasi totalmente e questo facilita la comprensione della suddivisione dei segmenti ogni singolo quadrato rettangolo colorato è realizzato a piramide se fossero tutti identici e di piccolissime dimensioni si definirebbero a claude pari ma essendo slegati tra loro non è possibile etichettarli un quadrante che restituisce l'idea di dinamismo cromatico unito a fantasia geometrica è poi possibile notare una particolarità ossia che il quadrante stesso è realizzato su due livelli gli elementi colorati si trovano a livello superiore mentre gli indici risultano essere in negativo affossati nel quadrante questo crea una ulteriore profondità visiva che viene ulteriormente esaltata dal fatto che le scritte sono realizzate a conio e quindi in rilievo insomma un insieme di elementi che si amalgamano ma che si distinguono in maniera netta d'altronde il fine del monoscopio era quello di testare la corretta visualizzazione a schermo sia dei colori che delle forme geometriche in tutto questo che ne è della leggibilità chiaramente non può essere pari a quella di un quadrante nero con sfere bianche ma è tutto sommato più che sufficiente le sfere a finitura metallica riescono a farsi strada grazie al contrasto del lucido con l'opacità del fondo mentre il vetro zaffero completamente piatto è praticamente inesistente sia perché non produce alcuna fastidiosa distorsione e sia per il doppio trattamento antiriflesso che gli consente di apparire completamente privo di qualsivoglia effetto specchio ho lasciato per ultimo un dettaglio che chiaramente è il fulcro sia di questo modello che di quelli standard a catalogo ossia la gran data una complicazione particolarmente raffinata che qui viene declinata utilizzando due dischi data coassiali che cambiano data istantaneamente quello inferiore con i numeri dallo 0 al 3 che si ripetono e quello superiore deputato ad indicare la cifra di destra che va da 0 a 9 complicazione che ha raggiunto la maturità tecnica e che ad oggi risulta completamente affidabile un consiglio utile quello di non impostare la data mentre le lancette sono posizionate tra ore 20 ed ore 2 questo vale un po per tutti i meccanismi e a maggior ragione per questo con gran data si tratta del calibro 80 di mido basato su eta c 07 651 un movimento che vede come suo lontano antenato l'eta 28 24 dal quale prende l'architettura generale ma con molte sostanziali migliorie in primis bilanciera spirale libera commessa a punto inerziale una soluzione che rende superflua ed eliminabile la racchetta di regolazione consentendo al bilanciere stesso di non dipendere da un ancoraggio fisso inoltre la spirale è realizzata in ivacron una lega proprietaria a base di titanio che risulta così essere completamente ammagnetica occorre dire che il bilanciere raramente necessita di una regolazione post produzione in quanto viene equilibrato in fabbrica utilizzando il metodo di ablazione laser vengono asportati infinitesimali quantitativi di metallo al fine di renderlo perfettamente equilibrato e quindi costante nell'oscillazione è ormai noto il fatto che questo tipo di calibro presenta una notevole precisione di marcia infatti lo scarto giornaliero da me riscontrato è di più 5 secondi calibro che risulta essere a vista in quanto l'orologio è provvisto di fondello trasparente devo dire che la conformazione del fondello è tale da riuscire a mascherare l'effetto ciambella in quanto la parte piatta utilizzata come sede per le viti non contribuisce a renderlo visivamente ingombrante nota margine anche sul posteriore abbiamo un vetro zaffero da notare poi la dicitura relativa alla limited edition 1 di 999 avrei preferito un numero progressivo identificativo e univoco ma tant'è la stessa dicitura la troviamo poi sul rio scelta insolita che dà un senso compiuto al tutto d'altronde è proprio il quadrante ad essere il protagonista di questa edizione poco sopra vi è un dot incastonato nella lunetta attenzione si tratta di un dot decorativo senza alcuna funzione notturna infatti in assenza di luce non restituisce luminescenza a differenza degli accenti presenti sul quadrante che risultano molto ben visibili e duraturi grazie al blu del super luminova bgw 9 che svolge greggiamente il proprio compito non è un diver ma l'essenza sportiva dell'orologio viene qui confermata non rimane che parlare del bracciale un classico acciaio inox con maglie ad h satinate e segmento centrale lucido niente di particolarmente originale ma il contempo adatto allo stile globale dell'orologio va infatti a duplicare le finiture viste in precedenza sulla testa ossia un'alternanza di lucido ed opaco che sempre rende interessante la resa al polso per contro le parti lucide sono come sempre a rischio graffi abituamoci d'altronde se bello vuoi apparire un poco devi soffrire apprezzo poi molto il passo delle anse da 22 mm a prima vista potrebbe sembrare una misura eccessiva nella realtà dei fatti è invece proporzionata alla testa in quanto ci restituisce una sorta di integrazione stilistica da farlo apparire quasi un pezzo unico la qualità generale è buona si tratta di maglie non troppo spesse tenute in sede tramite l'utilizzo di semplici pin a pressione sono tutte della stessa lunghezza non è quindi possibile giocare più di tanto per trovare la misura del bracciale dico questo perché la chiusura è farfalla e in quanto tale non prevede alcun tipo di regolazione fine per contro rappresenta la soluzione più elegante possibile poiché una volta chiusa non mette in mostra alcun tipo di scatoletta o pulsanteria è tutto a scomparsa e finemente stylish devo poi far presente che sono presenti le spring bars a sgancio rapido una soluzione nativa sempre ben accetta in quanto permette di smontare il bracciale velocemente e soprattutto senza il rischio di graffiare le anse in questo caso giunge a puntino in quanto nella confezione limited edition sono presenti ben due cinturini aggiuntivi uno turchese ed uno giallo sono realizzati in caociu e quando dico caociu intendo gomma naturale non silicone a parer mio questo orologio dà il meglio di sé appunto in questa configurazione che definirei molto estiva il passo ansa da 22 li rende alquanto vistosi e complice dai particolari tonalità adatti ad un ambiente piuttosto informale dimenticavo va da sé che anche i cinturini sono dotati di spring bars a sgancio rapido sarà così possibile avere tre possibilità di scelta senza armeggiare con gli attrezzi possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali a chi è adatto questo orologio io direi a quegli appassionati che si dedicano al collezionismo e alle limited edition a coloro i quali hanno già una collezione strutturata a cui manca un qualcosa di particolare oddio per amor di cielo non è che chiunque non possa essere appetibile da chiunque lo è però troverei strano che un neofito o chi vuole acquistare il primo orologio sopra i 1000 euro acquisti questo piuttosto si butta sulla versione standard che è a catalogo senza dover rischiare di acquistare come primo orologio qualcosa di veramente particolare che non può essere adatto a tutte le occasioni un orologio per appassionati rodati e d'altronde tutte le limited edition possono essere classificate con questo contesto punti deboli punti deboli quelli possono essere io direi del bracciale l'abbiamo detto la regolazione del bracciale più che altro perché la chiusura farfalla porta con sé questa negatività ce l'ho anch'io io oggi con la chiusura farfalla occorre lavorare sulle maglie smontare e rimettere maglie per allungare il bracciale allora io a quel punto lì ho una mia teoria no se uno non ha voglia di stare a smontare le maglie che è sempre fonte di rischio si può graffiare si può piegare un pin no non ha voglia mettiamo che non ha voglia di allungare il bracciale cosa fa una volta messo a misura il bracciale la prima volta per l'inverno poi quando si raggiunge la stagione estiva che la circonferenza del polso aumenta si iniziano a utilizzare i centurini visto che ci sono le spring bars a sgancio rapido si toglie subito il bracciale si iniziano a usare i due centurini che sono h insieme nella scatola nella limited edition che poi lo rendono anche più adatto alla stagione io chiaramente sceglierei il giallo perché il mio copyright ed è quello che secondo me nel turchese non è che mi fa impazzire ecco il giallo invece secondo me ci sta veramente bene eccolo qua con questo modo voi avrete un orologio per la stagione per i sei mesi diciamo più caldi che ha il suo perché che ha il suo particolare aspetto volitivo estroso e singolare insomma è un bello orologino messo così che tra l'altro secondo me la configurazione con i centurini è quella che gli rende maggiore giustizia un altro punto magari sul quale si può dibattere è il fatto del fondello trasparente con il calibro a vista non può essere un impedimento l'acquisto però il fascino del fondello in acciaio chiuso secondo me è maggiore anche se in questo caso insomma è un orologio così particolare fondello aperto si vede il calibro non è che ci interessa più di tanto d'altronde è un orologio leggero punti positivi io inizierei proprio dall'aspetto perché è talmente particolare che può essere l'orologio unico in una collezione strutturata abbiamo 30 orologi 20 orologi e ci manca quell'orologio particolare colorato limited edition magari un pochino ricercato ecco questo qua può essere il suo punto forte perché uno lo vuole acquistare perché è diverso dagli altri questo il punto principale poi la qualità la sappiamo l'abbiamo vista le finiture sono di primo ordine le satinature le lucidature che si alternano l'abbiamo vista il calibro è super preciso perché questo tipo di calibri da 80 ore di riserva di scarica sono sempre precisi 100 metri di impermeabilità con la corona vite quindi qualsiasi magagna che si può avere durante un bagno anche al mare non esiste un bagno in piscina lo puoi portare anche in piscina specie con il cinturino così quindi in quanto alle caratteristiche tecniche io non ho nulla da dire quello che conta poi è il gusto io cioè vi ho messo la pietanza sul piatto poi sta a voi assaggiarla una volta che l'avete assaggiata mi piace o non mi piace quindi la palla passa a voi e me ne lavo le mani come disse ponzio pilato mi sembra di aver dito tutto ragazzi io qua mi sembra che proprio ho letto tutto quello che mi ero segnato dei vari punti vi ringrazio per essere arrivati fino qua e vi ricordo gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love